un po di canzone di chiesa non mi piace cominciamo con un po di canzone di chiesa cominciamo con l'ora che pia l'ora che pia la squilla vede le note ci invia dell'ave del cielo tutti ave 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 Maria ave 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 Maria o vergi Maria regina de che all'urde scrittor la il popol del ave 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 ci sono anche ucraini qua vai balsando su youtube ci succede con questaうわ prontica Siamo fermi per ora Siamo fermi per ora